Anche oggi siamo stati uditi dall'ARAN, dalla Commissione per l'ordinamento professionale secondo l'articolo 34, 44 e 69 del contratto vigente, sul comparto ATA, comparto ricerca e comparto università. Oggi per la prima volta sono venuti delle persone specializzate nel comparto università e nel comparto ricerca perché ovviamente l'ANIENF è nato nel comparto scuola ma ora si sta specializzando anche nei nuovi comparti. Abbiamo portato le nostre stanze anche se la Commissione lavora da due anni però noi nell'ultimo anno abbiamo potuto essere uditi e portare le nostre stanze. Il lavoro dell'ANIENF continua nelle commissioni ARAN sempre a difesa e a portare le stanze dei nostri iscritti e di tutto il comparto lavorativo sia dell'università, della scuola e della ricerca. Grazie a tutti!